e adesso per blade pacco il nostro reparto tutto lame che ne dite di un bel ciopperone da lavoro ecco il nata di silky dunque silky produce strumenti da lavoro e questo sono anche in nata non giocattoli da bosco non attrezzi tactical ma veri e propri strumenti per chi nel bosco ci lavora per chi ha a che fare con la vegetazione tutti i giorni e per diverse ore su backpack trovate già tutte le seghe di silky le state vedendo passare a schermo sono formidabili e disponibili per voi vi hanno mai raccontato la storia di silky questo marchio che abbiamo su backpack e che usiamo tutte le volte nei boschi beh secondo me è importante davvero importante capire cosa abbiamo tra le mani beh silky è ovviamente un'azienda giapponese questo ormai lo sanno anche i muri che vanta una lunga storia di produzione di strumenti di alta qualità è stata fondata nel 1919 da katsuji miawaki e l'azienda ha iniziato la sua attività producendo rasoi di alta qualità poi nel 1953 silky ha ampliato la sua produzione per includere seghe e strumenti da lavoro beh è diventata immediatamente un leader del settore le seghe di silky sono note per la loro qualità eccezionale e sono soprattutto utilizzate in tutto il mondo dai professionisti in vari settori tra cui chiaramente giardinaggio costruzione e per quanto ci riguarda escursionismo ed avventura tutti gli strumenti di silky compreso il nata sono prodotti in giappone per quanto riguarda le mie impressioni sul nata beh devo subito dirvi che ci sono grosso modo sono enormi che ci sono due versioni di nata una è quella tradizionale con bisellatura asimmetrica e l'altra invece la outback con la bisellatura simmetrica molto simile ai chopper che siamo abituati a utilizzare io ho giocato di più con questa da bisellatura simmetrica perché beh perché va meglio di un'accetta e la cosa davvero impressionante è che non ha fatica né danneggia il braccio insomma nel nata ritroviamo tutta la tecnologia giapponese per i polimeri e gli acciai in un solo prodotto fantastico certo pesa ragazzi un po pesa ma alla fine la differenza con un'accetta non è il peso quanto la possibilità di usarla più a lungo e poi il fodero del nata è eccezionale ne parliamo tra poco prima di continuare però vediamo che ne pensa il nostro amico floriano del parchetto del tagliagole che ha recensito per noi il silky nata outback ragazzi silky nata 240 che sinceramente non mi aspettavo così performante performante proprio nel fatto di spaccare legna con una potenza inaudita ma pur essendo 730 grammi di coltello ragazzi non vi stanca questa è la forza di uno strumento da lavoro creato non per andare a fare i bigoli nel bosco ma per andare a tritare la legna ragazzi questo coltello non vi stanca è qualcosa di impressionante che ragazzi funzionano da paura da paura ragazzi grazie floriano ma ne avevamo parlato anche in live se non avete seguito la live con floriano beh dategli un'occhiata perché non dovete perderla assolutamente dunque inata nascono come strumenti per processare la legna senza fronzoli la brunitura del silky nata outback è una passivazione seria ideale per proteggerlo dai residui di vegetazione fresca che finirebbero per ossidare la lama il manico è removibile a una qui di sotto si stacca tutto il dorso del manico fate piano mi raccomando che non perdona e poi con un po' di pazienza ve lo potete staccare tutto e anche sostituire per reinserirlo seguite bene questo dentino fate così ed è fatta ragazzi poi schiacciate per bene e va tutto a posto magicamente il fodero del nata è fantastico innanzitutto è separabile dal passante per la cintura questo è fondamentale perché se non vi serve in quel momento vi tenete il passante alla cintura e il silky lo poggiate un attimo vicino allo zaino lo sistemate nello zaino lo togliete dalla cintura che magari è un po' pesante quando invece dovete lavorare inserite di nuovo la clip ed è fatta ragazzi avete questo bottone tutto in materiali moderni resistente all'usura addirittura questa parte del fodero è in alluminio fantastico come vedete non ha ritenzione però serve proprio per lasciare il coltello all'interno tirarlo via lasciarlo immaginatevi di trovarvi al lavoro ma anche durante un'uscita tirate fuori il nata fate un po' la pulizia che dovete vi fate la legna per il fuoco poi via mettete da parte fate un po' d'ordine e ricominciate da capo è questa un po' la comodità di avere un fodero così facilmente utilizzabile così non mi lasciate da qualche parte il silky piantato che fa tanto figo poi passa l'amico e si recide la femorale lo studio della geometria di questi chopper è ai massimi livelli infatti se guardate la profilatura della lama da questa parte vediamo come il peso maggiore si concentra in questa zona qui nell'ultimo quarto della lunghezza della lama questo perché se io avessi da lavorare con la legna beh state sicuri che proprio lì finirei per colpire guardate l'angolazione tra l'altro tra il manico e la lama non è poco è importantissimo l'avevamo visto anche sul creios di daniele dal canto una soluzione simile l'avevamo già vista con il creios di daniele dal canto è il compadre fro di buck sono due strumenti da lavoro e guarda caso prendono tutti questa impostazione qui se vi dovesse piacere beh se vi dovesse servire funziona anche con l'acciarino assolutamente il dorso è a spigolo vivo quindi bang subito si fa il fuoco compatibilità con i cinturoni nessun problema con le cinture normali ci mancherebbe altro e nessun problema neanche con i cinturoni tattici dovete far passare per bene la fibbia se avete voglia ecco qui e potete tranquillamente vestire il vostro nata poi è chiaro che quando non vi serve ve lo faccio rivedere che è una cosa unica staccate tutto ed è fatta siete liberi dalla zavorra è importante invece da sapere sul silkinata classico che arriva nella versione da 180 e anche nella versione da 240 beh che ha una bisellatura asimmetrica quindi da questa parte è completamente piatto mentre da qui si sviluppa il bisello e il filo perché perché fa comodo nella sdramatura nella pulizia dei rami può essere divertente nel bosco sicuramente sì se però dovete acquistarne solo uno se volete lo strumento che siamo più abituati ad utilizzare beh sicuramente vi consiglio il silkinata outback perché è più simile ad un accetta ad un ciopperone divertente e solido e ci fa insomma lavorare bene nel bosco se però volete sperimentare una nuova geometria qualcosa di nuovo qualcosa di un pelo strano per noi che non abbiamo magari tanta esperienza con dei biselli asimmetrici beh ragazzi una buona occasione per provare il silkinata classico comunque vediamo un po le differenze mi dicevo il silkinata a classico è per i tagli di rami e la scortecciatura ci si lavora anche in questo modo e ha una lama questo modello di 180 mm tagliente singolo è chiaramente lama lo vedete anche voi acciaio impugnatura è la stessa la chiamano genchi questo tipo di impugnatura è sempre in polimero comodissimo sempre fatto in modo da assorbire le vibrazioni ragazzi la vibrazione che corre lungo una lama del genere che ha impattato su un legno magari secco magari duro è fastidiosissima solo con un ottimo manico questa vibrazione viene smorzata e non vi darà dei problemi sulle mani sulle giunture sulle articolazioni se avete mai lavorato con delle accette con un manico in legno con un manico fatto male saprete sicuramente già di cosa sto parlando se siete stati nel bosco a giocare con i ciopperoni con il manico in g10 sapete sicuramente di che sto parlando invece uno strumento da lavoro nasce con un manico che serve ad accompagnarci per tutta la giornata antiscivolo da paura e morbido e giusto per assorbire queste maledette vibrazioni le dimensioni del nata 180 sono 385 mm di lunghezza per 45 mm di altezza del filo e il peso è di 750 grammi veniamo all'outback che vi dicevo è utile sempre per il taglio di rami per la pulizia per la slamatura per la scortecciatura ma soprattutto qui si va giù di brutto per lo spacco della legna ed è sicuramente una lama adatta anche al legno fresco lunghezza di 240 mm per questa lama tagliente doppio o simmetrico sarebbe il caso di dire e il rivestimento che è in black oxide quindi ossido nero è una passivazione in pugnatura genchi anche per lui in polimero avanzato comodo morbido antiscivolo che smorsa le vibrazioni lunghezza totale 460 mm per 45 mm altezza della lama peso 960 grammi per il bimbo grande a chi sono destinati questi strumenti ragazzi sono destinati a chi vuole lavorare o divertirsi nel bosco senza rimetterci il fisioterapista nella settimana successiva quindi che posso dirvi potremmo fare un confronto di sicuro tra il classico e l'outback ma credo che le differenze ormai si siano capite io mi diverto un mondo con l'outback è grande è grosso funziona bene e con uno di questi e magari un coltellino leggerissimo come un isola come un backpack light come uno spada per gli alimenti io con questo processo tutta la legna che mi serve sia per il fuoco che per le costruzioni e bushcraft per divertirmi è uno strumento da provare perché è diverso da un'accetta ma è secondo me molto più versatile chiaro che se volete andare un po più leggeri beh date un'occhiata a tutte le seghe le state vedendo passare a schermo con queste legna si taglia lo stesso le abbiamo sempre portate non è divertente come spaccare con il nata e non è assolutamente divertente però è più leggero e funziona lo stesso mentre se ci siamo capiti bene siete alla ricerca di un ciopperone e allora date un'occhiata ai nostri ciopperoni da paura selvans doberman backfrow brunilde ne abbiamo per tutti i gusti dategli un'occhiata no il selvans non è un ciopperone selvans è un macete è diverso ragazzi se anche a te piace andare nel bosco e giocare con i lagnetti se anche a te piacciono i ciopperoni da paura beh iscriviti al canale non dimenticarti di schiacciare la campanella così riceverai una notifica ogni volta che è pronto un nuovo video e se durante la giornata ti dovessi mancare beh mi trovi su tutti i canali social quindi seguimi iscriviti amicami e ci vediamo in giro ciao